Bella a tutti ragazzi, oggi sei qui con Niki La che sono qui per portarvi un video diverso dal solito infatti questo video sarà come uno speciale perché sono andato a vedere la partita del Cesena che è appunto del 28 settembre 2014 per la precisione Cesena-Milan e sono qui per portarvi questo video questo video che ho fatto durante la partita per farvi vedere un po' di azioni così come si vede ero in tribuna numerata vicino alla tifuseria del Milan sono andato a vedere il Cesena perché abito vicino Cesena, provincia di fuori Cesena infatti diciamo 20 minuti di macchina senza traffico poi perché c'era la mia squadra preferita quando il Cesena che era in Milan e volevo quindi fare questo video spero che questo video vi piaccia l'ho fatto prima di passare praticamente su NextGen quindi qui da Niki è tutto vi lascio il video mi scuso subito se la qualità audio è molto schifosa anche quella video però non potevo far di meglio perché c'era veramente un grandissimo casino per le due tifuserie che urlavano come matti perché era tutto esaurito e erano stati venduti 22.000 posti quindi qui da Niki è tutto vi lascio il video eccoci a Lorde Stadium di Cesena come vedete sono io siamo a Cesena per vedere Cesena Milan match di campionato della tinta giornata ragazzi ci vediamo dentro ecco ragazzi siamo qui come vedete c'è il fulman del Milan che sta arrivando arriva il fulman del Milan ecco il fulman del Milan si ho fatto mentre registravo e andiamo forza Milan ragazzi eccoci qui nello stadio vedete siamo per qui a Cesena Milan come ho già detto la mitica curva del Milan, forza Milan per sempre Filippo e Cesc ragazzi guardate ragazzi c'è anche Sky ecco ragazzi del MNF e la mitica del MNF guardate saluta grande MNF saluta buongi c'è il Cerawi Fai Cerawi scesi in pantina in pantina ragazzi invece c'è dal tunnel andiamo ragazzi ragazzi di questi del Cesena poi ci sono quelli del Milan vedete ragazzi che casino che c'è ecco lì ragazzi entrano in campo i giocatori del Sistema e della Mila va ricogliandogli il cadena Quartemilas Se stiamo ragazzi calcio piattato, Onda sulla palla, attenzione, Onda, batte, dai batte Onda, batte, palla e mezzo non va, palla di ciglio, palla buona, Jack, 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 vai Jack, e mezzo non va, palla di ciglio, palla, non è un problema niente di capire non è un problema oh ah tira avanti la volta non è un problema non fa la donna non è un problema questo è un problema non è un problema chi era per te chi era per te chi era per te vai Jack Jack vai Jack 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 segna per noi Jack segna per noi oh buona buona la seconda è merita guardate guardate il Zezena ragazzi e qui c'è un stadio come l'estreme guardate 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 quindici minuti con il trono però non è più resti 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 io li maneggia attenzione eeeh 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 non va il palo del Cesena da buona protezione guarda il Cesena eeeh 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 non deve dormire la difesa del Mila stavolta un po' come 0 per il Cesena, madonna bella 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 il calcio di condizione per il Mila è da buona posizione 17 minuti su stonometro onda sul pallone onda sul pallone onda onda il menè onda oh madonna beeeeh eeeh eeeh da eeeh gol di testa ravia a dir da a a a a a a a a a m non era merdo allora palla qua l'ex l'ex trentottesimo minuto ancora della partita sui risultati di 1 a 1 decidono il gol di David Succi e di Romy e li ha le ali fine primo tempo ragazzi nel caso di 1 a 1 è stata una partita molto buona perchè la maggior parte della partita l'ha controllata diciamo il Milan soltanto che Cesena ha fatto bene le proprie posioni e ha riuscito a segnare vediamo il link del secondo tempo la partita siamo già al ciclone del secondo tempo Cesena che attacca lo potete vedere e rilancia piano e quindi ci sono un po' il 66% non è ancora il risultato è di 1 a 1 a Camilla ma non succede niente ancora 1 a 1 a Camilla avviate avviate e... a schiare che sta male, guardate non prendono una palla incredibile risultato maldita tra le fine scosso l'ultimo uomo si può Anche oggi ragazzi siamo giunti alla fine del video Vi invito a lasciare un commento, un like E a scrivere il canale se non lo avete ancora fatto E noi ci chiamo nel prossimo video Bella Ciao